quindi si vede verso avanti con quale con quale fermo andrea vado andrea se metto il filo di sinistro avanti andrea con quale mano vado il rilancio ancora lo faccio con non so che ti viene tranquillo non ti posso fare vai dai andiamo vai andrea ci siamo vai guarda la porta non ci avviciniamo troppo non facciamo più bene facciamo aspettare i compagni vai edoardo un passo avanti abbassati il corpo bravo edo vai andiamo edoardo vede destro mano sinistra andiamo a terra abbassati edo abbassati vai gabriel avanti a terra alla nostra terra capito grazie